Andiamo al segno della Vergine, cambiano tante cose nella vostra vita, sono già cambiate nel corso di questo mese di gennaio perché avete dovuto anche rompere alcuni rapporti sotto la pressione di Marte, però ad esempio sul lavoro questa è una luna che porta delle novità importantissime e poi è una luna che vi chiede attenzione, e voi lo fate sempre, proprio al vostro fisico, alla vostra forma, alla vostra persona, al vostro look. Ecco, se volete cambiare taglio di capelli questa è la giornata ideale. Andiamo al segno della bilancia, una luna meravigliosa, una luna fantastica.